Ciao a tutti e ben ritrovati. Questo è il Monday Briefing di oggi 28 febbraio 2022 e c'è da dire che questo Monday Briefing è un Monday Briefing abbastanza particolare in quanto ci andiamo ad approcciare ad una settimana che è piuttosto delicata che è piena di market movers, primo tra tutti ovviamente la situazione della guerra in Ucraina. Faremo come sempre un'analisi del contesto generale per poi andare a guardare l'aspetto tecnico. In questo ambito volevo dire una cosa che in situazioni come queste in cui c'è una guerra in corso o comunque se c'è una situazione geopolitica internazionale piuttosto delicata anche chi fa breve termine, breve e brevissimo termine intraday è molto importante cercare di capire un po' il contesto in cui ci troviamo quindi il contesto macroeconomico e soprattutto durante la giornata ovviamente questo è valido per tutti avere un newsfeed aperto che ci tenga aggiornati su ciò che sta accadendo in tempo reale. Poi l'aspetto tecnico diciamo così che passa leggermente in secondo piano per quanto riguarda i setup e gli ingressi intraday ovviamente l'aspetto tecnico resta sempre valido ma per l'analisi diciamo così magari di più ampio respiro l'aspetto tecnico passa un pochino più in secondo piano non è che dobbiamo ignorarlo infatti non lo andremo ad ignorare però dobbiamo essere consapevoli che le news fondamentali quindi l'aspetto fondamentale, l'analisi fondamentale diventa più importante anche in un'ottica non di lunghissimo ma anche in un'ottica di swing trading di più giorni. Ok. Detto questo però anche gli aspetti diciamo anche multi day i livelli critici, i livelli sensibili mi riferisco in particolare alla struttura del mercato, al market profile, al volume profile hanno sempre anche in momenti piuttosto bollenti, chiamiamoli così hanno sempre una loro validità. Iniziamo dal discorso guerra in Russia i militari russi come sapete sono entrati nel territorio ucranio nella notte del 24 febbraio intorno alle 4 in circa la situazione è molto delicata la Russia sappiamo tutti bene che è una superpotenza è una grande superpotenza e è stata buona per anni nel frattempo la Nato diciamo i paesi occidentali si sono espansi Nato intendo dire sì tutti i paesi ma chiaramente l'America è la capofila quindi la Nato si espansa in questi anni sempre più occidente sempre più a ridosso della Russia e per quanto la guerra è sempre una sconfitta per il genere umano è sempre una sconfitta per l'umanità è sempre un rimedio come dire non è mai un rimedio valido era diventata praticamente un qualcosa di inevitabile la Russia da un punto di vista geopolitico non avrebbe tecnicamente potuto fare niente di diverso poi le modalità e le cose però una reazione importante l'avrebbe dovuta in ogni caso avere l'equilibrio mondiale si basa su di fatto la pace nel mondo si basa su un equilibrio chiamiamolo così nucleare cioè le due superpotenze che hanno la più grande quantità di ordini nucleari in grado di infliggere danni diciamo irriparabili per il nostro pianeta sono chiaramente Stati Uniti e Russia se questo equilibrio si basa su un equilibrio di forze se uno non inizia tecnicamente è la fine per tutti nel senso che automaticamente l'altro parte con i suoi armamenti quindi parliamo di armamenti nucleari per cui non ci sarebbe e non c'è un vincitore tutto questo equilibrio di forze ha tenuto fino ad oggi fortunatamente la pace anche se in qualche caso si è arrivati durante la guerra fredda a situazioni un po' delicate però di fatto finora questo equilibrio ha funzionato l'ipotesi ormai messa sul campo in modo definitivo di voler far entrare in Ucraina e nella Nato avrebbe rotto tecnicamente questo equilibrio cioè l'avvicinanza eccessiva di armamenti nucleari a confine con la Russia chiaramente avrebbe rotto questo equilibrio per cui la Russia non poteva accettarlo poi il fatto come sta reagendo e quello che sta facendo questo è un altro discorso però diciamo che era una situazione che poi chiaramente era stata annunciata già da tempo prima dagli americani poi a un certo punto i russi non l'hanno legato ma sostanzialmente avevano mostrato un movimento di truppe eccetera eccetera adesso senza farla lunga da questo punto di vista era un qualcosa di quasi scontato restando uguali le dichiarazioni dei vari paesi quindi attualmente ecco siamo al quinto giorno di guerra e oggi c'è in questo momento in cui sto registrando un tentativo di negoziato al confine con l'Ucraina in Bielorussia a confine con l'Ucraina vediamo cosa accadrà se si possa trovare una sorta di accordo che faccia cessare le ostilità la Russia è entrata nel paese dichiarando di volerlo demilitalizzare quindi di fatto lo sta facendo colpendo prevalentemente anzi sembra totalmente le basse militari e gli armamenti anche se ovviamente chiaramente gli effetti collaterali ci sono e poi c'è anche un discorso che siamo difficilmente informati su quello che ci sta realmente accadendo l'abbiamo sperimentato in questi due anni che l'informazione è piuttosto senso unico quindi è un po' difficile fidarsi di ciò che ci dicono quindi ecco le trattative dovevano iniziare a inizio mattinata quindi sono in corso vedremo cosa ne verrà fuori speriamo qualcosa di positivo nel frattempo sono state già dichiarate tutte le sanzioni alla Russia che poi di fatto sono più sanzioni al paese europeo in modo particolare all'Italia e alla Germania innanzitutto quello che fa più notizia è il fatto che le banche russe vengano escluse dal circuito bancario SWIFT quindi non sarà possibile fare bonifici verso queste banche questa è una cosa ripeto abbastanza forte e chiaramente crea seri problemi in paesi come l'Italia che si approvvigionano prevalentemente di gas con la Russia e stessa cosa anche la Germania altra cosa delicata a livello geopolitico è il fatto che diversi paesi hanno dichiarato di voler mandare di mandare aiuti militari all'Ucraina parliamo della Germania che si è tenuta diciamo neutra fino a poco fa la Svezia un paese notoriamente neutrale da Danimarca una situazione geopolitica piuttosto delicata c'è la chiusura dello spazio aereo da parte per le compagnie di Mosca quindi la situazione è abbastanza 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 delicata queste ecco sostanzialmente sono queste ed altre sanzioni tra l'altro sono state diciamo verranno imposte alla Russia la Russia d'altro canto ha chiaramente il il rublo è fortemente sotto attacco chiaramente si sta deprezzando sono stati alzato il tasso di interesse al raddoppiato quindi da 9,5% al 20% e diciamo che le condizioni sono abbastanza delicate nel breve per la Russia da un punto di vista economico monetario quello che io credo che per la Russia sarà un problema più di breve in questo momento adesso a parte poi tutto bisognerà vedere come si svilupperà il discorso militare però sostanzialmente la Russia che ha chiaramente come alleato la Cina e chiaramente diventerebbero una mega superpotenza da un punto di vista energetico e quindi anche da un punto di vista poi economico finanziario saprebbero gestire bene questa cosa e indubbiamente però creerebbe seri problemi da un punto di vista di noi paesi europei che abbiamo rapporti sia commerciali sia di approvvigionamento ma anche commerciali l'Italia esporta molto ad esempio in Russia quindi diciamo che la situazione da un punto di vista macro è abbastanza delicata diciamo che c'è poi il discorso che l'80% delle delle transazioni della Russia sono fatti in dollari quindi questa cosa qua potrebbe anche in parte ritorgersi contro gli Stati Uniti potrebbero decidere ad esempio con la Russia con la Cina di denominare diciamo le transazioni in altra valuta che potrebbe essere l'euro o addirittura questa è un'ipotesi abbastanza ancora un po' lontana ma possibile utilizzare il mercato utilizzare le criptovalute diciamo che l'ipotesi tutto può accadere da questa situazione quindi bisognerà proprio vedere come si sta come si evolverà il discorso bellico cosa è successo ai mercati americani poi anche ai mercati europei la cosa poi dopo la vedremo nel dettaglio per quanto riguarda i mini standard impure Nasdaq c'è stato un rally verso l'alto di fatto si è scesi con l'annuncio il 23 il 23 di febbraio già si si dava quasi per certa l'ingresso dei militari in in Ucraina l'ingresso dei militari russi in Ucraina poi di fatto è prevenuto il 24 e diciamo il 24 già si è avuto una prima giornata di rally e poi anche il giorno successivo la cosa strana come mai con lo scoppio della guerra i mercati salgono si potrebbe fare del cattivo umorismo sugli Stati Uniti io non ho niente contro gli Stati Uniti ho vissuto là un periodo e volevo anche continuare a viverci quindi non ho assolutamente contro però la battuta di cattivo gusto potrebbe essere che gli americani vivono di guerra negli ultimi 20 anni sono sempre stati presenti in quasi tutte le guerre quindi la guerra è positiva se da un punto di vista anche proprio di armi di geopolitico in questo caso ma lasciando stare questi discorsi qua che sono veramente chiacchiere da bar di fatto c'è un motivo tecnico immediato poi nel lungo potrebbero rientrarci tutte altre cose tipo quelle che accennavo prima per il discorso dei pagamenti eccetera eccetera però perlomeno nel breve brevissimo adesso il motivo di questo rally è stato abbastanza tecnico nel senso che ci trovavamo in una situazione di tempesta quasi perfetta per i mercati prima di questo prima dello scoppio della guerra nel senso che avevamo ormai erano stati annunciati l'aumento dei tassi di interesse l'inflazione stava crescendo i PIL dei vari paesi si increscita magari alcuni paesi al di sotto delle aspettative e soprattutto e questo mi riferisco anche agli Stati Uniti spesso questi dati macro non corrispondono poi di fatto all'economia reale che comunque sia risente e risentirà dei due anni di pandemia quindi era un mix inflazione appunto difficoltà diciamo di ripresa da questi due anni era un aumento di tassi di interesse da parte della Fed poteva essere una tempesta perfetta ecco il fatto dello scoppio della guerra ha ridotto perlomeno le aspettative di aumento dei tassi di interesse ecco in questo grafico del CME Group in cui c'è diciamo la probabilità di quale sarà l'aumento dei tassi di interesse del prossimo meeting del FOMC che come vedete è il 16 marzo tra due settimane vedete che diciamo il dubbio era se l'aumento dei tassi di interesse fosse stato dal 20-025 a 0-50 e le probabilità che potesse essere che vedete questa linea verde di 0-50 quindi da 50-75 sarebbe diventato stavano sensibilmente aumentando a fronte di quella da 0-25 a 0-50 in questo momento siamo a 0-025 ok quindi vedete che le probabilità erano abbastanza alte che l'aumento sarebbe stato di 0-50 e dopo la guerra vedete dopo diciamo lo scoppio della guerra vedete che sono crollate sono abbassate sensibilmente le probabilità dell'aumento più alto e sono cresciute invece le probabilità sono tornate alte probabilità di un aumento più piccolo ecco questo da solo è una grande spinta almeno nel breve brevissimo è stata la spinta in questi ultimi giorni verso l'alto dei mercati finanziari a seguito dello scoppio della guerra ci sono state diverse dichiarazioni anche poi non solo poi per quanto riguarda il mercato americano ma anche per la banca centrale europea che questo evento chiaramente scongiura aumenti di tasso di interesse almeno breve ok quindi questo è per quanto riguarda il contesto generale andiamo a vedere un attimo le news calendarizzate per la settimana e anche qui c'è una situazione abbastanza ricca al di là chiaramente di aggiornarsi quotidianamente sul discorso guerra vedete la settimana abbastanza piena ci sarà mercoledì un diciamo così un un incontro in cui il presidente della fed è un incontro semiannuale in cui alle camere gli Stati Uniti lui testimonierà sul farà una sorta di report e previsione e dirà qualcosa sulla politica monetaria statunitense per cui saranno soprattutto il primo perché poi il secondo è sempre una copia del primo all'altra camera però mercoledì 9 orari di Chicago sarà un appuntamento abbastanza importante poi per quanto riguarda le altre news oggi abbastanza a vuoto a parte il Chicago PMI alle 8.45 quindi un quarto d'ora dopo l'apertura di Chicago diciamo degli exchange chiaramente domani ci sarà il construction spending e queste altre news alle 9 quindi da tenere in considerazione ecco i più importanti ripeto saranno queste dichiarazioni di Powell e chiaramente poi sabato c'è venerdì scusate c'è l'employment report quindi anche da un punto di vista di news calendarizzate è una settimana abbastanza piena chiaramente sullo sfondo prevalente del discorso guerra altra cosa scusate dimenticavo mercoledì 2 marzo ci sarà anche l'OPEC meeting che si fa mensilmente tra i 13 paesi esportatori di petroli di petroli principalmente per cui in questa situazione di crisi comunque di prezzi così alti per quanto riguarda le materie prime messo insieme alla guerra con la Russia che è uno dei principali paesi produttori di gas naturali e anche di petrolio tra l'altro è abbastanza delicata quindi potrebbe essere un market mover anche questo ma passiamo ad analizzare l'aspetto puramente tecnico allora questa era la situazione ciò che è avvenuto in realtà la settimana la settimana scorsa questi sono i profili giornalieri come sapete bene questo era il valore della settimana ancora precedente e questo è come si è tradato in questa settimana vedete che siamo sempre stati sotto il valore della settimana precedente si è tentato ecco nella giornata di venerdì di nuovo di entrare nel valore non si è riusciti lasciando magari un massimo debole le mini nasda è una situazione molto simile si è riusciti ad entrare ma poi si è tornati sotto situazione molto simile quindi si è tradato sostanzialmente sotto il valore della settimana precedente ma veniamo alla situazione attuale come siamo ora e aggiornando il valore della settimana alla settimana precedente questo è dove siamo ora siamo esattamente nel valore della settimana precedente qui c'è quello che vi dicevo prima allora il 23 che è stata la giornata in cui si era annunciata sostanzialmente l'inizio della guerra anche se di fatto non c'era stata gli Stati Uniti dicevano che la cosa era imminente era imminente i mercati sono scesi piuttosto violentemente poi il giorno successivo quando sono iniziati in realtà le ostilità all'interno del territorio ucraino il mercato è risalito quasi recuperato tutta la giornata precedente e poi il giorno successivo il venerdì si è ancora si è ancora saliti ok questo è mini S&P ma il Nasdaq ha fatto sostanzialmente esattamente la stessa cosa ok questo questa era la giornata del 23 questo è il 24 e questo è il 25 ok come siamo messi in questo momento allora una cosa ecco che volevo far notare qui soprattutto sull'S&P sul Nasdaq non è avvenuto che la giornata di giovedì il 24 sostanzialmente quando si è risaliti si è saliti con un delta molto molto forte quindi una grossa spinta verso l'alto diciamo un tanto sforzo per un risultato che a parità della giornata precedente è molto più elevato quindi molto sforzo per tra virgolette poco risultato c'è stato sostanzialmente dell'assorbimento in parte di acquirenti aggressivi e questa cosa tende ad intaccare di meno diciamo una visione bearish generale ok finora abbiamo sempre visto venditori aggressivi assorbiti ecco questi sono i casi in cui invece acquirenti aggressivi sono assorbiti nonostante il mercato sia salito ok però paragonato al range diciamo la cosa non è in realtà si tratta di è stato presente dell'assorbimento da parte di acquirenti aggressivi nonostante comunque si sia conquistato terreno ok la cosa non è avvenuta il giorno dopo anzi il giorno dopo c'è stato un leggero assorbimento di venditori con un delta comunque piccolo e si è saliti quindi queste due informazioni sono un po contrastanti ok oltre a avere lasciato un massimo un massimo debole vediamo per quanto riguarda invece il nasdaq questa cosa il discorso del delta poi lo vedremo non è avvenuto quindi sostanzialmente non ci ha dato questa informazione andiamo a vedere il grafico i grafici daily i classici candlestick qui vedete il discorso che facevo prima del delta lo vediamo rispecchiato anche nel cvd ok quindi contesto generale contesto generale resta sempre quello di lungo lunghissimo termine ancora il trend di lungo termine non è ancora diciamo fortemente intaccato anche se si iniziano a fare massimi minimi decrescenti sul daily quindi siamo sotto la media mobile a 200 giorni quindi un qualcosa di contesto è cambiato si tratterà di vedere chiaramente i prossimi livelli critici saranno quest'area intorno a 4.000 qui nelle mini standard ok abbiamo un profilo di diciamo di medio abbastanza equilibrato nelle mini nasdaq è leggermente più sbilanciata verso il basso anche se il minimo è molto molto più forte ok andiamo a vederci a vedere velocemente cosa aspettarci per la giornata qui abbiamo il qui abbiamo il nasdaq scusate lo lo sistemiamo qua perché mi sia spostato e qui abbiamo l'S&P ok questi sono i grafici intraday di lungo termine che io che io osservo in questo momento siamo dentro l'area di valore di venerdì ok sia con S&P che con nasdaq entrambi la cosa evidente chiaramente è il gap quindi abbiamo un overnight inventory 100% short quindi la prima ipotesi le prime ipotesi potrebbero essere chiaramente quelle di un ribilanciamento verso l'alto quindi la chiusura di questo gap che comunque sia anche se oggi non si dovesse chiudere dobbiamo considerare e magari avere una giornata di questo tipo anche probabilmente interlocutoria questa potrebbe essere un'ipotesi se non accade niente dal chiamiamolo così dal fronte stessa cosa stessa cosa potrebbe avvenire nel Nasdaq ok è lo stesso stesso discorso senza che ve lo che ve lo metto ok vediamo che il gap qui nel Nasdaq è un po' un po' più piccolo un po' più e quindi ancora più facile che venga venga chiuso però la cosa non è detta diciamo che altro potrebbe accadere un'altra ipotesi potrebbe essere quella in cui si magari si trada un po' verso il basso fino a intorno a 4251 poi si risale e si va a chiudere il gap e sostanzialmente si resta in zona in zona di valore questa è un'altra ipotesi poi chiaramente è possibile anche che questo questo livello venga rotto e si passi e si continui a salire questa è un'altra ipotesi ok l'altra ipotesi invece è che addirittura non giunga notizie ci auguriamo tutti di no però magari notizie anche non buone per cui magari si scenda e si rompa 4251 e si continui a scendere verso il basso sia questo per S&P e stessa cosa per il Nasdaq potrebbe accadere questo quindi il non chiudere ricordiamoci che quando non accade in qualcosa di abbastanza probabile diciamo la cosa diventa indicativa nell'altra direzione quindi potrebbe anche veramente accadere questo e che si continui a scendere io personalmente propenderei più per chiaramente per il ribilanciamento e poi diciamo anche una giornata probabilmente interlocutoria se non arrivano news particolari dal diciamo dal fronte però staremo a vedere concludo quindi dicendo di stare molto attenti al discorso del diciamo del newsfeed quindi quello che verrà fuori da questo incontro sarà chiaramente importante e chiaramente anche stare abbastanza attenti in quanto il book sarà abbastanza vuoto come già lo è stato ultimamente quindi dobbiamo aspettarci sempre un'alta volatilità ok quindi massima attenzione con l'inserimento degli ordini e quant'altro grazie per l'attenzione in bocca al lupo per la giornata e per la settimana a presto e buon trading